Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo a Siena-Firenze è scambio di carreggiata per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia è riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra San Vincenzo Sud e San Vincenzo in direzione Nord. Sulla statale 62 della Cisa, senso unico alternato in entrambe le direzioni per lavori tra i chilometri 27.400 e 27.430 tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli. Infine per gli aerei il volo da Düsseldorf atteso a Firenze alle 11.35 atterrerà alle 12.15, ripartenza delle 12.10 prevista alle 12.45. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!